Volevo fare questa cosa da un sacco di tempo, ma volevo che fosse una cosa che non avremmo mai dimenticato perché sarà l'unica volta in cui lo farò, perché so che staremo insieme per sempre perché so che quando mi sveglio al mattino sono molto più felice guardandoti di quando mi sono addormentato perché l'amore non è rincorrersi, perché l'amore è passeggiare insieme Io Roby se hai la pubblicità mettila! Aiuto! Grazie per la visione!